Ecco, proprio nell'ottica di crescere sempre e di insomma avere contributi anche dagli altri attori della sanità, in questo caso pubblica questo workshop che si chiama Infermiere come protagonista nel percorso clinico assistenziale chirurgico è stato organizzato dalla vostra struttura in collaborazione con? Con l'ordine delle professioni infermieristiche, con l'ordine degli infermieri e con gli amici colleghi dell'ospedale San Donato. Ancora una volta, è una manifestazione di organizzazione delle associazioni di Arezzo. Gli infermieri dell'ospedale San Donato ovviamente fanno parte della colonna portante dell'assistenza sanitaria della nostra città, una colonnetta siamo pure noi e l'ordine degli infermieri ovviamente costituisce un altro pilastro, prima ho detto colonne, pilastro ancora di più, della sanità. Questa collaborazione ogni tanto si manifesta, ultimamente anche abbastanza spesso, questa volta con l'organizzazione di un congresso sulla cura e sicurezza dei pazienti. Un congresso che farà proprio il focus quindi sulla figura appunto dell'infermiere. Usciamo da due anni di pandemia, vi abbiamo chiamato eroi, però abbiamo anche cominciato a capire, a conoscere quali sono le vostre problematiche, quindi immagino che la discussione sarà un po' a tutto tondo. Sì, abbiamo pensato di fare questa comunione con l'ospedale dato che abbiamo lavorato insieme per la pandemia, si sono instaurati dei rapporti, sì in questi due anni è venuto fuori che l'infermiere, l'eroe e tutto, però noi vogliamo far vedere il lavoro specifico dell'infermiere per quanto riguarda la prevenzione e la cura di una, purtroppo, nemmeno definita patologia, sull'infezione che purtroppo il paziente può acquisire all'interno, quando si ricovera all'interno di una struttura, che sia pubblica o che sia privata. Una figura, quella dell'infermiere, è sempre più specializzata, ovviamente un professionista della sanità. Sì, il ruolo dell'infermiere evolve sempre più, quindi logicamente ci sono varie specifiche, ognuno nel suo vario settore oppure nel suo ambito del lavoro vero e proprio. Cerchiamo di fare del nostro meglio, puntiamo a farci conoscere a livello, non come casa di cura, perché ripeto una cosa congiunta, a livello proprio di professionalità. Grazie per la visionare. Grazie.